La prima giornata è andata? È andata benissimo, benissimo, benissimo. E com'è andata? Direi molto bene. Abbiamo dato tutto, tutto quello che avevamo, non c'era visto più niente. Domani sicuramente avremo 10 kg, diciamo a fare. Com'è andata? Molto bene. Molto bene? Stanti ma soddisfatti. Benissimo. Nessuno ha portato la pasta, non ci hanno mangiato tutti. Tutti. Non è avanzato nulla. Siamo stati gli unici a fare la pasta in diretta, fresca, sul momento. Com'è andata? Un peso meraviglioso. Bene, è vero? Bellissimo. Era un po' tedioso l'ospedale. Sùolutione Pietro, da całe Assetto per iveri. È vero che le infected con azione e dal 팔. No, no. 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 No, no. No, no. 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 Grazie.